Nell'ambito dello spazio Risonanze del Festival del Film di Roma, che è iniziato lo scorso 16 ottobre e proseguirà fino al 21 ottobre, la sesta edizione di DocFest rassegna internazionale di documentari su arte, architettura, cinema, teatro, musica e danza, la scorsa domenica ha visto la presentazione in concorso tra le 50 proiezioni selezionate da 250 documentari provenienti da tutto il mondo del documentario prodotto da Meta Multimedia, dal titolo Piero della Francesca e il Politico della Misericordia, per la regia di Federico Greco. Dopo essere stato selezionato al Flower Film Festival e al Brixton Art Film Festival, Piero della Francesca e il Politico della Misericordia partecipa quindi anche a Roma DocFest, sicuramente uno tra i più importanti festival di documentari su arte, architettura, cinema, teatro, musica e danza a livello internazionale, oltretutto inserito quest'anno nella sezione Risonanze del Festival Internazionale del Film di Roma. Si tratta quindi di un'altra conferma dell'ottimo livello raggiunto dell'ultima produzione dell'Associazione Meta Multimedia di Sansepolcro, in collaborazione con Blu-ray di Roma e il regista Federico Greco.